Ciao a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara, me l'avete richiesto in tanti ed ecco qui il video di Ed Swap, ovvero scambio teste di questo nuovo Vegeta con tutti gli altri che si è un modo per vedere la testa di Vegeta sugli altri e viceversa, però è anche un modo per rivedere tutti i Vegeta dovrebbero essere in realtà praticamente tutti tolte le esclusive, quindi eccoli qua poi volevo avvisarvi, cogliendo l'occasione, che sono riuscito a recuperare un'ultima copia di questo Vegeta la potete trovare sul mio sito Ara Shop, link qui sotto in descrizione oppure cercatelo direttamente su Google ma andiamo appunto a procedere con l'SWAP prima però volevo farvi vedere questo nuovo effetto Aura, ragazzi, stampato da me in 3D in questa plastica traslucida, questo è appena uscito dalla stampa, infatti ci sono ancora delle parti che devo limare secondo me è uscito veramente bene, presto sarà disponibile sul sito, anzi penso lo metterò disponibile proprio oggi quindi andate a vedere sul sito e si regge ovviamente in piedi da solo senza problemi grazie a queste piccole basette che sono presenti sul retro ma non perdiamo altro tempo ragazzi e andiamo subito a fare l'Ed Swap per completezza farò anche quello che ho già fatto nel video della recensione ovvero questo andiamo a prendere questo Vegeta senza far cadere nulla eccolo qui il Vegeta Scouter 2.0 e l'Ed Swap è possibilissimo e ragazzi questa testa di Vegeta è veramente fenomenale chiaramente è possibile anche fare questo anche se non mi piace continuando ancora vediamo un po' con gli altri sicuramente con il Super Vegeta si può fare lo scambio anche se ha poco senso perché questo è un Vegeta diciamo con un tratto prima apparizione diciamo così però si può fare anche questo e ovviamente si può fare anche questo ovvero mettere il Super Saiyan sul corpo questo qui ha sempre avuto il suo fascino il Super Saiyan con questa armatura non è mai successo ma è sempre figo da vedere e ovviamente ragazzi si può fare anche questo con il Super Vegeta diciamo seconda versione è compatibile eccolo qua perché c'è il peg più grande questo non lo so mi piace un po' di più con questo blu più scuro ripeto sempre così così perché questo Vegeta è Vegeta caratteristico prima apparizione però si può fare e chiaramente si può fare anche questo vediamo tutto a questo punto se dobbiamo fare il video ecco qua anche questo non mi dispiace forse meglio del precedente ora Majin Vegeta eccolo qua questa chiaramente è la testa Tozen Art Toys non è quella origine del Bandai vorrebbe Bandai fare un Majin Vegeta del genere magari prima o poi lo farà andiamo a vedere se questa testa è compatibile ma assicurante sì perché ha lo stesso peg grande eccolo qua si può fare questo ancora meno senso però si può fare e chiaramente vabbè Tozen Art Toys è compatibile assolutamente con questo corpo ragazzi però è completamente sbagliato il colore della carnagione è completamente diverso poi ancora abbiamo il Vegeta Sculter prima versione eccolo qua già che ci siamo facciamo anche una piccola comparazione perché non l'avevo portato in video nella recensione con questo qui completamente diversi questo è un Vegeta più grosso anche come muscolatura questo qui è un Vegeta molto più snello questo era un buon viso ma questo qui è perfetto ragazzi l'head swap non è possibile ve lo anticipo già perché il peg questo è molto più grande rispetto a questo ecco qua guardate il collo incavato eppure eppure non è male perché il corpo è molto piccolo se si trovasse il modo di mettere il peg giusto avrebbe un senso in realtà questo Vegeta qua tra l'altro questo è super sfumato bellissimo secondo me uno dei migliori ancora oggi continuando ancora stessa cosa per il Super Saiyan ragazzi questi hanno tutti il peg questo è il primissimo hanno tutti molti avranno avuto un infarto con questo cambio di testa questo qui è uno di quelli che vale di più non va ragazzi è troppo piccolo il peg e viceversa ovviamente la testa Super Saiyan di questo non va assolutamente sul nuovo corpo stessa cosa per questo ragazzi è inutile che tolgo la testa anche qui il peg più piccolo semplicemente il Vegeta Premium Color li chiamavano così finiamo questa fila con il Vegeta invece Super Saiyan God sia rosso che blu qui ragazzi l'head swap è possibile ed eccolo qua il Vegeta in realtà non è malissimo i colori scuri si addicono molto a questa testa chiaramente è un po' più grande del normale vedete anche i capelli ed è giusto così perché era il tratto di Toriyama caratteristico della prima apparizione riprendiamo il corpo qui naturalmente è compatibile con il Super Saiyan God una cosa molto molto strana da vedere ma si può fare si può fare anche questo volendo quindi è chiaramente anche con la testa Super Saiyan Blue Vegeta Super Saiyan di quarto livello eccolo qua questo ha un peg secondo me un po' piccolo è a metà andiamo a vedere sto cominciando un casino qui sopra no cioè in realtà si si incastra non proprio alla perfezione ma va ecco qua questa sia la cosa più strana che abbiamo mai visto non avevo mai visto un Vegeta Super Saiyan di quarto livello con la testa normal e viceversa non avevo mai visto credo vada si un Super Saiyan quarto livello Vegeta con lo Scouter che in realtà devo dire devo dire ha il suo perché ha il suo perché e ora ragazzi tocca al famigerato Vegeta Super Saiyan Blue di Dragon Ball Super che ha un peg forse leggermente più grande ma secondo me non sufficiente assolutamente no testa ballonzola quindi questa non sarà compatibile con il nuovo corpo ma poco importa perché questa è mondezza allo stato duro e Vegeta Super Hero questo non mi ricordo sinceramente come ce l'ha il peg è abbastanza grande in realtà credo che quindi sia compatibile eccolo qua si ha fatto il click e infatti la testa va su questo corpo non mi convince troppo ovviamente questa testa può andare qui sopra questa è una cosa che Bandai avrebbe fatto qualche tempo fa ovvero riciclare una di queste teste e buttarla su questo corpo qui solo che si certo ci può stare ma non è il Vegeta di questa o di questo periodo qui questa testa è perfetta ricomponiamo il tutto ragazzi e concludiamo il video abbiamo visto tutti i cambi possibili penso di non aver dimenticato nessun Vegeta eccolo qua rimettiamo anche lo Scouter che tende a staccarsi è questo qui ragazzi e il Vegeta che è diventato introvabile essendo anche edizione limitata vi ricordo che è disponibile un'ultima copia su uno sito Ara Shop nel link qui sotto in descrizione il primo che arriva se la prende detto questo spero che questo video vi sia perciuto ciao da Ara e collezionate sempre grazie a tutti